Siamo a Foggia, città pilota per un ambizioso progetto ecologico, ovvero dotare la città di un polmone verde. Ed è proprio da qui, da dove vi sto parlando, che sorgerà il primo bosco. Gli alberi verranno piantati su tutta la piazza, inoltrandosi tra le colonne del Pronau, fino a ricoprire tutta la superficie della villa comunale. Qui vicino a me il tecnico che sta installando il primo albero sulla piazza che doterà Foggia di un polmone naturale di aria. Primo albero che è stato donato da un generosissimo filantropo di cui non si conoscono le generalità. Lei come si sente a essere colui che sta piantando il bosco a Foggia? Ma a dire la verità questo è l'albero di Natale. Natale, il filantropo anonimo si chiama Natale. Questo è uno scoop che solo per voi, voi telespettatori, avete la possibilità di aver avuto una c***a.